luca mazzatelli è un nuovo giocatore del monza ufficialmente beh c'è da dire che comunque noi mazzatelli l'avevamo preso dalla roma quindi aveva alte aspettative però poi comunque quando è arrivato avrà fatto mezza stagione con noi poi è andato in prezzo di qua e di là quindi un po l'avevamo capito un po tutti che questa solo se lo voleva andare via quindi ora è andata al monza che comunque gioca gioca in serie b è una delle candidate seriamente a salire il prossimo anno quindi lo vedo comunque sperando che fa degli ott mannate la monza e niente comunque e questo sperando sperando che si ritrova che comunque con noi come già detto non ha mai praticamente giocato quindi non ha mai fatto vedere il suo reale valore ora vediamo se se al monza gli daranno più spazio e se potrà comunque vero giocare ai suoi livelli diciamo quindi poi poi è logico che il prossimo anno lo vorrei vedere in serie a contro per vedere veramente se se veramente la solista abbaiato a venderlo oppure no intanto comunque potrei essere un po contento visto che praticamente era era già separato in casa da da molto tempo quindi ora vedremo quello che farà al monza questo se detto questo ci vediamo il prossimo video forza Sassol forza Italia e ciao